Musica Amici della NuovaRivera.it, oggi per la nuova puntata di Quattro Chiacchiere siamo venuti in Capitaneria di Porto con il Comandante, il Capitano Mauro Colarossi per parlare un pochino, è arrivata l'estate, quali sono le precauzioni, i suggerimenti che si possono dare sia ai natanti che ai bagnanti. Diciamo che finalmente è arrivata, perché questa estate si è fatta un pochino attendere, però adesso è esplosa. Le raccomandazioni sono sostanzialmente quelle di ogni anno, cioè di approcciare al mare con il dovuto rispetto e anche un pizzico di timore, perché poi il mare lo vediamo sempre molto bello e tranquillo, in realtà le cose cambiano in un attimo. Quindi avere coscienza del fatto di essere in un ambiente particolare, questo è fondamentale. avere a mente il nostro numero verde, il nostro numero blu, anzi 15-30 per qualsiasi emergenza e anche per qualsiasi consiglio, comunicazione, eccetera, eccetera. E poi gli approcci sono sostanzialmente sempre gli stessi, capire che la testa dei bagnanti non va d'accordo con le eliche delle barche, per cui la fascia riservata alla balneazione, che ricordo essere fino a 300 metri dalla costa, deve essere esclusivamente riservata alla balneazione. Quindi tutti i mezzi a motore e non che prendono il largo lo devono fare o attraverso ovviamente il porto, ovvero attraverso i corridoi di lancio, che sono posizionati in maniera tale, ben delineati attraverso le boe, che consentono appunto, sempre a lento modo e con le dovute cautele, di raggiungere la fascia di mare che appunto è adibita per la navigazione. Questo è fondamentale. Abbiamo garantito quest'anno in una logica, diciamo, di linea di tratto comune su tutto il territorio della Regione Marche, fortemente voluto dall'ammiraglio Moretti, che è il direttore marittimo di Ancona, un'uniformità delle ordinanze di sicurezza balneare. Questo in maniera tale che qualsiasi turista che si trovi a Pesaro, piuttosto che ad Ancona, piuttosto che a San Benedetto, ha un provvedimento che è molto simile nella sua costruzione. Certo, salvaguardando quelle che sono le specificità locali, perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di avere ordinanze balneari diverse, però con delle regole generali. Quella che ormai è ben nota, ma mi piace ribadire, che è una novità introdotta da quest'anno e il fatto che il servizio di salvamento, il servizio di salvamento appunto è garantito anche nella cosiddetta periodo della pausa pranzo e quindi è continuo per tutta la giornata soleggiata e a sicurezza e a salvaguardia appunto dei nostri turisti. Sempre tenendo a mente i consigli della nonna, che insomma, quando si mangia bisogna poi aspettare almeno tre ore prima di fare il bagno, insomma. Ma certo, loro la vedevano lunga, nel senso che poi basandosi diciamo su quella che era l'usanza e la consuetudine, avevano anticipato e capito quelli che erano i precetti. Ricordiamoci che in mare, in estate e soprattutto in certi orari si raggiungono delle temperature molto elevate, quindi ricordiamocelo per le fasce diciamo quelle più delicate, più protette, cioè i bambini piuttosto che gli anziani. In quelle ore proteggersi bene, mettersi magari sotto l'ombrellone e mangiare leggeri che in ogni caso fa bene. Senta, San Benedetto in questi ultimi tempi è andata su tutti i giornali all'onore delle cronache anche per un'iniziativa che è quella del recupero dei rifiuti plastici in mare e da San Benedetto è nata un po' l'idea che verrà poi sviluppata a livello nazionale. Per San Benedetto immagino sì, è anche per lei una grande soddisfazione. Assolutamente sì, San Benedetto era e rimane una delle marinerie di pesca più importanti del panorama nazionale e il fatto di trovare con corde tutta la marineria a Stracico, stiamo parlando di ben 40 barche, più di 100 pescatori che con entusiasmo hanno aderito a questo progetto, è una cosa fantastica. Loro sostanzialmente dal mese di maggio, dall'inizio del mese di maggio, il progetto addirittura doveva durare soltanto un mese, ma adesso già lo stiamo prolungando fino all'inizio del fermo pesca che ricordo quest'anno comincerà appunto a ferragosto, continueranno a recuperare rifiuti e a conferirli a terra. Tutto questo è fondamentale per vari motivi, non soltanto per il segnale che viene dato e quindi la sensibilizzazione nel grande pubblico sul fatto che bisogna rispettare un ambiente così delicato e importante come il mare, ma anche perché un'attività così ampia nel tempo è fatta da un'intera marineria permette sostanzialmente di acquisire una serie di informazioni statistiche sulla tipologia di rifiuti, qualità e quantità fondamentali per delle valutazioni che sanno prese appunto a livello nazionale. Grazie, ringraziamo il comandante, il capitano Mauro Colarossi della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto per questa puntata è tutto.